Come la scorsa stagione, la trasferta al Mapei Stadium regala al Monza la gioia dei tre punti, conquistati anche stavolta in una partita di lotta e sacrificio. Dopo tre pareggi di fila, è la prima rete in bianco-rosso di Lorenzo Colombo a regalare ai Brianzoli una vittoria pesante in termini di classifica, ma soprattutto sul piano morale, perché dopo un avvio di stagione con qualche apprensione, la squadra di Palladino sembra aver ripreso a ingranare, trovandosi ora in una situazione di relativa tranquillità con nove punti, a più sei dalla zona di retrocessione e con la parte alta della classifica ora decisamente più vicina. Un successo tutt'altro che scontato, quello contro un sassuolo reduce dalle vittorie contro Juventus e Inter, stavolta però la squadra di Dionisi ha sprecato di più e anche una grande prestazione di Di Gregorio, autore di almeno tre grandi interventi nel primo tempo, ha permesso a Monza di uscire con la porta inviolata da Reggio Emilia. Meglio e Brianzoli nella ripresa, dopo un paio di occasioni con Chiriacopulos e Colombo, e proprio quest'ultimo a sbloccare la partita al sessantaseiesimo, dopo una discesa sulla sinistra l'attaccante Brianzolo sterza su Erlich che batte consigli con un destro raso terra. Questa vittoria ci dà grande morale, grande slancio, grande autostima. Venivamo da un periodo bello di partite importanti, di prestazioni importanti, però con pochi punti raccolti, oggi ci serviva una vittoria di spessore. Questa è una partita che a mio avviso è molto difficile, molto complicata, perché nel primo tempo la potevamo anche passare sotto, quindi vanno dati meriti anche al Sassuolo, perché hanno avuto tre o quattro palle gol, a volte si parla tanto degli attaccanti, ma oggi il nostro portierone ci ha tenuto in piedi, quindi grandi complimenti a Michele Di Gregorio, che ha fatto delle parate strepitose, poi nel secondo tempo, secondo me, mi ha fatto grande prestazione, abbiamo avuto quattro o cinque palle gol, l'abbiamo sbloccata e l'abbiamo portata a casa. Spazio negli ultimi quindici minuti anche per il neoacquisto, il Papu Gomez è entrato bene in partita con alcune giocate in velocità, dando i primi ottimi segnali di un giocatore desideroso ritornare a brillare in Serie A. Il Monza resiste fino alla fine, conquista così la seconda vittoria stagionale, i Brianzori torneranno in campo domenica contro la Salernitana allo U-Power Stadium. Dobbiamo continuare così perché domenica ci sarà una partita complicata contro la Salernitana e mi aspetto davvero una risposta importante, sappiamo che è difficile, quindi dobbiamo giocare con questo spirito, quello del secondo tempo.